Il terrorismo fa paura, il questore assicura attenzione massima, ma in città servono soluzioni strutturali. Basilica ancora ferma, il cantiere per l'allestimento della mostra su Van Gogh, oggi il summit tra comune e soprintendenza. Palazzo tiene, museo statale, un affare per tutti, un volano per la cultura e il turismo a Vicenza. Il nostro servizio sul Nama de Cheruba è diventato un caso, dopo tanto rumore le carovane lasciano il laghetto. Incidente in Viale Milano, un'auto guidata da una vicentina ha trovato una donna e il figlio retto di tre anni. Ad agosto alzerati gli arrivi di migranti a Vicenza, il codice di comportamento per le ONG funziona. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio di Vicenza, lo avete sentito dai nostri titoli, il terrorismo fa paura anche a Vicenza dove servono interventi strutturali. Noi di Rete Veneta oggi abbiamo fatto il punto con il questore lanciando anche una proposta. Sentite. Il terrorismo ha una sola regola ed è che non ha regole, insomma può colpire sempre e ovunque. Questo non significa che si debba e si possa blindare tutta la città di Vicenza, ma almeno i suoi punti sensibili, almeno i suoi luoghi simbolo, insomma servono soluzioni strutturali. Gli attentati si susseguono a ritmo vertiginoso. La follia dell'estremismo islamico sta colpendo tutta l'Europa. L'ISIS minaccia l'Italia. Le grandi metropoli e le città d'arte corrono ai ripari. Il Viminale alza il livello di sorveglianza e anche i piccoli centri cercano soluzioni. In una città come Vicenza bisogna sicuramente studiare delle barriere in piazza Castello come in piazza Matteotti per evitare che succeda questo. Una macchina, un furgone, un camion che in corso palladio o in piazza dei signori possa falciare i passanti, così come è successo a Barcellona sulla Rambla. La minaccia è particolarmente difficile da fronteggiare, comunque è il nostro lavoro e quindi dobbiamo applicarci con la maggiore intelligenza possibile nella consapevolezza che il rischio proviene da più lati. Il questore ci spiega che la città non può essere blindata al 100% ma tutti gli accorgimenti possibili vengono messi in atto. Da Monteberico, il santuario simbolo religioso della città, alla Basilica Palladiana dove è già stata innalzata la sorveglianza. La sicurezza per gli eventi come la festa degli Otto dal 25 agosto al 10 settembre viene studiata a tavolino e oggi in questura per tutta la mattina c'è stata una riunione per mettere a punto una strategia anche per la Fiera del Soco che si terrà a Grisignano dall'8 al 14 di settembre. Quello su cui noi ci soffermiamo molto è la promiscuità che ci può essere tra le persone che partecipano all'evento e i rischi esterni. In primis potete arrivare ad immaginare quello che proviene da autovetture o mezzi. Poi si faranno dei controlli più discreti perché l'attività non si svolge soltanto in maniera palese ma si svolge anche in maniera un pochino più occulta quindi un'osservazione dedicata a delle telecamere lì dove queste ci sono, delle collocazioni specifiche dove queste si possono fare e una partecipazione di tutti i protagonisti delle forze dell'ordine in queste occasioni. Insomma la sicurezza oggi più che mai è materia scientifica e nulla può essere lasciato al caso ma come dicevamo la città non può essere blindata o si rinuncia a vivere e ha vinto il terrorismo oppure si va avanti cercando di ridurre al minimo i pericoli. E noi di Rete Veneta proponiamo contro possibili attacchi terroristici a protezione del centro storico di Vicenza e delle strade più frequentate dei pilomat decisamente meno impattanti rispetto ai New Jersey in cemento armato. Allora aspettiamo di vedere che cosa ne pensa il sindaco, intanto la nostra proposta è lanciata. Oggi pomeriggio intanto a Verona summit tra il comune di Vicenza e la soprintendenza dei beni culturali e questo dopo il colpo di scena in Basilica Palladiana con lo stop al cantiere per l'allestimento della mostra di Goldin su Van Gogh. Il summit della verità dopo il clamoroso stop ai lavori di allestimento della mostra su Van Gogh per tutelare la Basilica Palladiana a Verona va di scena l'incontro tra gli ispettori della soprintendenza ai beni culturali e i funzionari del comune di Vicenza che hanno portato con loro un plico di documenti con tutti gli approfondimenti e le verifiche richieste. Siamo fiduciosi che la sovrintendenza viste le precisazioni, le verifiche, qualche tentativo che certamente facciamo con spirito di giusta collaborazione, di alleggerimento di una struttura che è vero ha avuto in passato una pesantezza anche eccessiva e ripeto è giusta l'attenzione della sovrintendenza. E già è giusta l'attenzione della sovrintendenza a tutela della Basilica Palladiana che dal 7 ottobre ospiterà la più grande esposizione monografica mai dedicata in Italia a Van Gogh. Presto arriveranno 120 tele del genio olandese per un valore di più di un miliardo di euro che richiedono un'attenzione particolare e speciali condizioni di umidità e temperatura. Ma i lavori di allestimento non possono violare la Basilica Palladiana che è essa stessa un'opera d'arte. Per questo è arrivato lo stop al cantiere della mostra. Evidentemente per la sovrintendenza non sussistono le condizioni per garantire il rispetto della Basilica. E dire che l'amministrazione avrebbe dovuto sapere di avere gli occhi della sovrintendenza puntati addosso dopo che nell'ultima rassegna curata da Marco Goldin proprio in Basilica il ministro per i beni culturali aveva stigmatizzato pubblicamente l'allestimento troppo invasivo eppure loro continuano a sbagliare. Questa amministrazione che non è la prima volta che ci fa queste tene novelle sempre sotto la regia speciale del vice sindaco Bulgarini continua a sbagliare. Il centrodestra critica duramente la gestione dell'allestimento da parte dell'amministrazione comunale di Achille Variati. Forza Italia ha firmato un'interrogazione urgente in cui chiede. Primo quali sono stati gli accordi tra l'amministrazione e l'inadombra. Poi perché sono iniziati i lavori senza autorizzazione. In attesa di una risposta a queste domande oggi nel summit di Verona la sovrintendenza chiede un adeguamento delle strutture espositive. In questo caso però ci domandiamo chi si farà carico dei costi aggiuntivi? Chiaro che se ci sono dei costi aggiuntivi ci sono danni della reale o no? Perché vuol dire che c'è stato fatto male il lavoro precedentemente e adesso dobbiamo subire dei costi maggiormente perché se fosse fatto a monte oggi noi non saremmo qua a fare questa intervista e tutti saremmo felici e contenti. Invece non siamo felici e contenti ma? Ma siamo incazzati. Salviamo Palazzo Tiene. Rilanciamo anche oggi la nostra proposta che l'antica sede di BPV resti a Vicenza e ai Vicentini. Salviamo Palazzo Tiene. Anche oggi torniamo a insistere sulla nostra proposta di statalizzare l'antica sede di BPV facendone un museo pubblico. Abbiamo ricevuto l'appoggio dei cittadini, dei commercianti, dei consiglieri comunali, del sindaco Achille Variati, dei parlamentari e sotto il nostro impulso persino il governo si è impegnato a far sì che Palazzo Tiene venga acquisito al patrimonio dello Stato e messo a disposizione della città nella rete civica museale. Eppure non ci basta e non ci fermiamo perché sappiamo bene che, seppure tutti concordano, le cose possono andare diversamente da ogni legittima previsione. È necessario che tutti portiamo avanti questa battaglia di civiltà. Avremmo voluto sentire anche la voce del Centro Internazionale di Architettura Andrea Palladio, che giustamente si è sollevata in difesa della Basilica, minacciata dai lavori di allestimento della mostra su Van Gogh. Giustissimo, la Basilica è uno dei grandi capolavori di tutti i tempi, patrimonio dell'umanità, ma altrettanto potremmo dire di Palazzo Tiene. Oltretutto, istituire un museo nazionale a Palazzo Tiene porterebbe un vantaggio anche al vicinissimo Palladio Museum, che ne trarrebbe maggiore visibilità e il flusso turistico dell'uno si potrebbe riversare nell'altro. Oltretutto, sarebbe fisiologica una florida collaborazione tra i due musei, anche nel campo della ricerca storica e scientifica. Noi di Rete Veneta la nostra parte la facciamo anche così, tenendo alta l'attenzione su questo tema. Non abbassiamo i fari da Palazzo Tiene, che la politica passi dalle parole ai fatti. Sino ad allora, per noi, la questione continua. E continuano ad essere tanti anche i messaggi e i commenti che state inviando alla nostra redazione dopo il filmato shock che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi, nel quale alcuni nomadi dichiarano pubblicamente di rubare per guadagnarsi da vivere. Cartoline da laghetto, Vicenza. Guardate, manca qualcosa. Avete indovinato? Sì, proprio così. Mancano i nomadi, i camper, che ormai da qualche settimana facevano parte del panorama. Riceviamo fotografie e video girati col telefonino dai nostri telespettatori che ci ringraziano e segnalano la partenza delle carovane dopo il nostro servizio in cui un nomade, proprio in zona Laghi, ammetteva candidamente di vivere rubando. Ricordate? Andiamo a rubare. Andiamo a rubare. Andate a rubare? Sì, andiamo per me. E dove andate a rubare? Giro. Giro. Giriamo. Cosa vediamo? Capita. Ho sentito una dichiarazione shock che ha sollevato lo sdegno dei vicentini. Tante le telefonate e le email giunte alla nostra redazione. Il nostro contributo però evidentemente è stato utile perché dopo tanto rumore le carovane se ne sono andate e oggi alcuni residenti ci inviano queste foto ringraziandoci. I nomadi però hanno lasciato qualche ricordo. Ci rendiamo conto che non siano immagini proprio piacevoli da vedere ma questo è quello che resta. Sporcizia, rifiuti, cartoline da laghetto purtroppo anche queste. E siamo alla cronaca con un grave incidente avvenuto questa mattina in Viale Milano gravemente feriti. Una madre del suo piccolo. Grave incidente questa mattina vicino alla stazione dei treni in Viale Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale un bambino di tre anni è sfuggito alla mamma e dal marciapiede si è fiondato sulla strada. Nel cercare di fermarlo la giovane madre e il piccolo sono stati investiti da un'auto guidata da una signora che non ha fatto in tempo a frenare investendo la donna e mettendo sotto le ruote il bambino. Immediato l'intervento del SUEM che ha portato d'urgenza entrambi al San Bortolo. Non sarebbero però in gravi condizioni. L'investitrice in stato di shock è stata sentita dagli agenti per chiarire le dinamiche. Ancora un grave caso di inciviltà in Campo Marzo questa volta però protagonista è un turista. Turismo cafone e poi dicono gli italiani. Gli stranieri qui a casa nostra fanno molto molto peggio. Basta guardare cosa succede a Campo Marzo e sì purtroppo il parco di Vicenza è ancora una volta teatro di un caso di inciviltà. Come se non bastassero i bivacchi dei profughi e i pusher che nascondono la droga tra gli alberi e i cespugli. L'ultimo caso vede protagonista un romeno che arrivato in stazione con i figli di 4 e 8 anni da una località di mare. Essendo tardi ha deciso di accamparsi a Campo Marzo in una zona pericolosa anche perché malfrequentata. Gli agenti delle volanti della questura hanno trovato l'allegra famigliola dentro la sua tenda. Intanto ad agosto gli arrivi dei migranti a Vicenza si sono praticamente azzerati. Ma che fine hanno fatto i profughi? A Vicenza ci sono tutti quelli sbarcati in questi anni ma nell'ultimo mese di agosto gli arrivi si sono praticamente azzerati. Volete vedere che il codice di comportamento per le ONG che operano nel Mediterraneo unito all'azione più incisiva della Guardia Costiera Libica stanno funzionando? Infatti nonostante la bella stagione e il mare piatto il numero di migranti sbarcati in Italia sta subendo un brusco calo. Una flessione che porta appunto beneficio anche a Vicenza. E tra i nostri telespettatori c'è chi ci scrive in redazione porgendo una domanda provocatoria. Finalmente il governo ha messo le regole ma ci voleva tanto. E questa sera per la nostra programmazione non potevamo che omaggiare un grande attore scomparso nella giornata di ieri ovvero Jerry Lewis e per questa sera vi proponiamo il balio asciutto quindi insomma una storia quella del comico che pensiamo di omaggiare in questo modo con la nostra programmazione. Da Vicenza invece per questa sera è davvero tutto. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata ovviamente con i programmi di Rete Veneta. Le previsioni per domani. Sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo pomeridiano specie sulle zone montane, precipitazioni assenti, temperature stazionarie o in locale aumento le minime in montagna. Grazie a tutti.